Ecco, eccolo qua. E devo dire che l'ho visto prima è veramente spettacolare. Ma la cosa è che qui si guarda un progetto fatto qui ma è che lo stiamo facendo veramente. Lo stadio nuovo, il completamento sta diventando veramente un gioiello. Stiamo lavorando veramente in modo forte. Un investimento di 100 milioni di euro, quindi è impegnativo, ma uscirà una cosa fantastica per la nostra tifoseria. E forza Atalanta! Mr Antonio, questo è fantastico. Questo è qualcosa per il tuo obiettivo.